Questa notte mi ha colpito qualcosa di duro, ha esploso il timone di destra, l'impatto è stato così violento che il timone ha sfondato la cassa e siamo stati con la barca in cappa a recuperare il timone un bel po' di tempo, probabilmente un'ora, anche di più e quindi abbiamo perso un sacco di miglia, è arrivato anche il vento più da est di quello che ci aspettavamo e quindi i nostri concorrenti sono un po' avvantaggiati anche da quello, adesso cerchiamo di difenderci in qualche modo e lotteremo fino alla fine